vieni qua vieni qua vieni qua aia 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 non fa male l'ho lanciato l'ho lanciato e poi torniamo al nostro Fedez che si esibisce va di successo in successo allora oggi aggiornamento globale dei Ferragnez lunedì pomeriggio ci voleva abbiamo visto che Chiara Ferragni sta tornando un po' in auge piano piano come influencer è invitata anche agli eventi abbiamo visto a Madrid oggi questi fashion awards qui chiudiamo con le foto del giorno con l'angelo tropea ci vediamo al prossimo video ciao